Gianmarco Tamberi ricoverato d'urgenza Prima della finale olimpica Ho vomitato sangue Gianmarco Tamberi, il campione olimpico di salto in alto ha vissuto un vero incubo a sole poche ore dalla finale delle Olimpiadi di Parigi 2024 La moglie dell'atleta, Chiara Bontempi ha condiviso una foto sui social che ha lasciato tutti senza parole Tamberi su una barella con una flebo attaccata al braccio Cosa sta succedendo al nostro campione? Prima di scoprire tutti i dettagli su questa drammatica vicenda ti invito a iscriverti al canale e a condividere questo video Rimani aggiornato sulle ultime notizie dal mondo dello sport e sostieni il nostro lavoro Grazie per il tuo supporto Le prime ore di paura Tamberi in ospedale dopo aver vomitato sangue Alle ore 19 era prevista la finale in cui Tamberi avrebbe dovuto difendere il titolo conquistato a Tokyo 2020 Ma la situazione è precipitata La mattina, Tamberi ha rivelato di essere stato colpito da una nuova colica renale un dolore così intenso da costringerlo a ricorrere alle cure mediche d'urgenza In un post sui social l'atleta ha descritto il momento più spaventoso Sono appena stato portato in pronto soccorso in ambulanza dopo aver vomitato due volte sangue Nonostante il dramma vissuto Tamberi ha sorpreso tutti con un messaggio di speranza pubblicato sui social Io ci sarò Con queste parole ha confermato la sua presenza in pedana per la finale contro ogni aspettativa un segno di grande determinazione e coraggio ma anche un atto di fede nei confronti del proprio destino sportivo Anche il presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera Stefano May ha parlato della situazione spiegando che la decisione finale dipenderà dalle condizioni di salute dell'atleta Lui vuole gareggiare ma bisogna vedere chiaramente che non ci sia niente di problematico che non ci sia nessun rischio ha detto May sottolineando l'importanza di valutare ogni possibile conseguenza prima di permettergli di competere L'intera nazione ha atteso con il fiato sospeso l'evolversi della situazione mentre gli atleti della delegazione italiana continuano a mandare messaggi di supporto al loro portabandiera Non dimenticare di iscriverti al canale e di condividere questo video se sei rimasto colpito da questa incredibile storia Resta con noi per tutti gli aggiornamenti su Gianmarco Tamberi e le Olimpiadi di Parigi 2024 Resta con noi Resta con noi Grazie a tutti.